ciao a tutti bambini e non solo sono qui che vi parlo dalla mia casetta per questi giorni vorrei regalarvi una ricetta un po speciale perché per fare dei colori con tutte cose che probabilmente avrete nelle vostre case allora seguite questo video in cui vi mostro cosa vi serve e come fare e ci rivediamo alla fine con una piccola magia ciao buon divertimento 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 E eccoci qui, per la magia di cui vi parlavo. Ho il mio foglio bianco, i colori del cavolo, un pezzettino di scottex per asciugare il colore di troppo e un bel pennello. Ora guardate. Attendete qualche minuto ed eccolo qui, il mio cuore per voi. Come avrò fatto? Provate a indovinare. Ciao! Ciao!